Pillopipe EVO di Paola Navone. Pillopipe EVO è un piccolo restyling che è stato fatto al divano Pillopipe. Pillopipe è ormai diventato un prodotto iconico di casa Milano. Questo piccolo restyling consiste nell'averlo reso un po' più contemporaneo, abbassando i braccioli e la struttura leggermente di soli 3 cm. Ha aumentato l'altezza dei piedini e ha modificato la confezione della base da us, quindi che arrivava fino a terra, aderente. Di conseguenza il divano galleggia da terra. Ma l'argomento più importante su questo prodotto, sul Pillopipe EVO, è la versione green. Il primo divano casa Milano, 100% ecosostenibile che rispecchia i principi dell'economia circolare. Tutte le imbottiture delle sedute degli schienali sono realizzate con una fibra 100% rigenerata e biodegradabile, certificata a livello internazionale. Questa fibra, miscelata a sughero in granuli, che, grazie alla loro elasticità e capacità di adattamento, offrono un elevato comfort molto simile alla piuma d'occa. Oltre ad essere analergico, inifugo british è impermeabile, mentre le imbottiture della struttura sono realizzate con la sola fibra. Il legno utilizzato per la struttura del divano proviene da piantagioni a riforestazione programmate. Pillopipe EVO Green unisce comfort e modernità in un progetto che mette l'ecosostenibilità al centro della nostra casa, l'ambiente in cui viviamo.